siamo a bordo di pecora nera perché questo nome non lo so pecora nera con davide sampiero alessandro e cesare l'equipaggio tutti perfettamente indivisa pronti per quest'ultima giornata sono pure primi in classifica un bel gruzzolo dei punti di vantaggio ma noi adesso vogliamo prima intanto ci presenti il tuo equipaggio davide poi ti cederò il microfono e tu farai per chi ci segue da casa una sorta di visita guidata di pecora nera diciamo questo meteor leader in questo momento del campionato ci spieghi un po l'attrezzatura di coperta le accortezze vostre le particolarità di questa barca e daremo anche uno sguardo così una curiosità all'interno del mezzo certo presentaci l'equipaggio allora alessandro alessandro viene in barca con me dal 1987 ha iniziato con me lui non era non è un velista di prima di prima di nascita ha imparato ad andare in barca da grande aveva 25 anni comunque bella questa non è un velista di nascita si nasce velisti si nasce cesare è un velista di nascita optimist è stato mio allievo da ragazzo e lui nasce nasce velista perché secondo me si nasce velista quando si fa le derive hai detto bene sì sì ti sei cresciuto quasi l'equipaggio in qualche modo in qualche modo sì vero allora lui fa il prodiere sentiamoli lui è sì sentiamo loro lascia parlare loro sentiamo sentiamo alessandro niente io sono il prodiere sono il vecchio del gruppo sono quello che prende le smazzolate tutte le volte perché non essendo per forza quindi insomma non essendo di nascita sono sono meritate cioè ti fanno crescere queste mazzolate no assolutamente no sono gratuite proprio diciamo che ho perso i capelli dopo che è diventato bianco per tutto quindi quindi pecora nera cammina a forza delle mazzolate che dà da lui non è che il vento per chiedere scusa pubblicamente a loro per vent'anni di angheria è un bel momento di sport bravi sì essendo in prua e avendo tanto naso riesco a tagliare il primo traguardo mi tengono per questi motivi qua diciamo le cose come stanno e lui ecco qua il velista nato velista cesare boldrini sono nato velista perché davide è stato il mio primo istruttore di vela al mio primo corso di vela nell'84 in optimist dove all'erici appunto avevo soltanto 11 anni quando ho iniziato a frequentare la classe dell'optimist di lì mi sono appassionato e davide nelle vari step della mia crescita mi ha seguito e mi ha reso partecipe di questo grande progetto che è pecora nera contentissimo di farne parte assolutamente un team unito con delle peculiarità incredibili però ci divertiamo sempre piace questa cosa di questo grande progetto che è pecora nera guarda che bella è una cosa bellissima ma è giusto così è giusto così lui se non lo vedi parla senti solo la voce non lo vedi in faccia sembra pietro da lì dalla voce allora adesso come promesso do il microfono allo skipper che ci farà questa visita guidata alla barca questa è la seconda nostra barca che abbiamo armato e attrezzato all'insegna della semplicità quindi non abbiamo neanche messo il trasto c'è solo un puntone centrale con un archetto tipo deriva e quindi per tenere il pozzetto pulito e per passare liberamente da più a prova più a poppa poi abbiamo due o tre cose fondamentali che servono per le regolazioni che sono questa per la drizza della per la drizza del genoa che è una cosa che serve per fare una regolazione di fino molto molto diciamo precisa e poi abbiamo le macchinette che ormai sul sul metro usano quasi tutti per per regolare il punto il punto di scotta e la tensione della scotta del genoa praticamente non non c'è altro di particolare è tutto all'insegna della semplicità noi addirittura abbiamo il tangone non usiamo neanche carica basso lo teniamo basso con il barber e quindi è veramente tutto molto semplice anche anche all'interno non c'è niente che non siano le dotazioni obbligatorie e quindi diciamo che è stata tutta improntata sulla semplicità più 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 estrema ecco l'interno è estremamente semplice non c'è niente qua abbiamo una sacca con dentro tutte le nostre dotazioni con l'ancore eccetera non c'è nulla di superfluo l'unica cosa che la differenza da altre barche è quella quella parete lì dove ci sono segnate un po di sono segnate un po di stelline che abbiamo che abbiamo conquistato negli ultimi anni fra le altre cose abbiamo vinto tre barcolane e tre campionati nazionali match race e quindi all'interno credo che non ci sia niente di particolare da da vedere a parte il vuoto che è importante